Ministro Mauro, stimorò, non siamo riusciti a riportarli a casa. Ma ci riusciremo, sono convinto che poco a poco avere ottenuto l'internazionalizzazione del caso ci consentirà di imporre all'India l'evidenza della verità, che sono cioè due persone innocenti che devono tornare liberi e con onore nel loro paese al più presto. Ma perché sono stati rimandati giù? Ma non li potevamo arrestare? Questa è una domanda che deve rivolgere al precedente governo e anche ai giudici. Grazie.